Io credo che come è possibile vedere stasera la Cappella Sistina, nessuno l'aveva mai vista prima. Io credo che tutta la gente che viene qui, quasi sei milioni, io credo che tutti potranno vedere la bellezza di questo ambiente, come mai prima l'avevano visto. La nuova luce permette di vedere tutta intera la Cappella Sistina e ogni particolare degli affreschi. Ma abbiamo bisogno di provare che sia possibile che sia possibile che sia una grande Cappella con LED e con tutti i aspetti che la cappella non è vero per la arte. Ci sono stati di una volta un anno, con molti piccoli, originali piccoli, qui dal chappell, quindi provo la qualità di l'aligno e la qualità di l'aligno di l'aligno. E alla fine abbiamo fatto un nuovo sistema, o due nuovi sistemi, una per la normali museo e l'altra per la gala illuminazione, che è un luogo potente per tutti gli eventi, come concerti. Ora abbiamo un'energia di 10% di energia di l'aligno di l'aligno di l'aligno, con un livello di l'aligno di l'aligno di 10 volte più altra. Quindi abbiamo un'energia di energia, abbiamo anche una perfetta l'aligno di l'aligno, e abbiamo, dal punto di vista conservatorio, la più l'aligno che potete in il mondo. La Sistine Chapel è uno dei musei più conosciuti del mondo, del museo e dell'aligno di l'aligno. Tutti lo conoscono, ha i piedi di Adam, quindi è stato un progetto della mia vita. ed è possibile vedere ogni piccolo dettaglio con questa nuova luce. È una splendida luce che permette di godere della Cappella Sistina, come mai prima.